A Trani adesso per il progetto Buono e Solidale dedicato ai ragazzi speciali. Buono e Solidale tradotto è l'inclusione di persone cosiddette speciali nel mondo del lavoro. Siamo a Trani insieme a Despar Centro-Sud della cooperativa Workout. In tutti i punti vendita sono i ragazzi a proporre l'acquisto di confezioni di uva. Il ricavato servirà a finanziare progetti futuri che consentano la necessaria continuità alle attività finalizzate all'inclusione e all'integrazione sociale dei giovanissimi. I ragazzi sono stati formati dal Centro Abba Lab Sivola e quindi sono stati seguiti da tutor che li hanno preparati, hanno preparato per loro un mansionario. Tra l'altro i ragazzi sono stati anche protagonisti di lezioni sia teorico che appunto pratiche. Questo perché insomma sono stati assunti regolarmente e durante la loro prestazione lavorativa si sono occupati del confezionamento dell'uva e della relativa promozione e vendita all'interno dei nostri punti vendita. Chiaramente oggi parliamo dell'uva, in un altro appuntamento ci siamo occupati della vendita dell'aloe, sono tutti prodotti che sono legati alla salute ma soprattutto abbiamo lavorato in collaborazione con fornitori del territorio e quindi locali. C'è un vero e reale abbattimento delle barriere perché i ragazzi hanno dimostrato che sono capaci di essere inseriti nel mondo del lavoro e di integrarsi perfettamente.